E anche oggi ci dobbiamo mettere sotto per una nuova avventura E benvenuti ragazzi e ragazze sono Anime e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Siamo nel nostro semi magazzino molto carino Oggi dovremmo intraprendere delle cose importanti come per esempio fare la camera Che ho già detto nello scorso episodio e mi scoccia vedere camera mia effettivamente buttata così vuota Spoglia, fredda, senza neanche le finestre Avrete notato una cosa particolare? I vetri Ovvero finalmente Sasha hai metto l'Optifan, l'hai messo, si l'hai proprio messo, si si guardate Si è Optifan, il problema è che dà ancora dei micro lag Abbiamo aggiornato il server alla nuova 14.4 Quindi la nuova Optifan mi dà meno problemi ma me ne dà comunque Quindi adesso vedrò se peggiorerà o migliorerà nel tempo Quindi per ora accontentiamoci di averla Poi vedremo se dovremo ricoglierla o no La prima cosa che vi volevo far vedere era l'avanzamento della mia fattoria L'abbiamo lasciata con tutti diciamo le liane che dovevano ancora crescere E quindi l'abbiamo Diciamo adesso finalmente possiamo dire che è completa Adesso è veramente rustica È veramente buttata diciamo Abbandonata Allora se così possiamo di... Cosa è successo raga? I miei polli! Peste di sal... I miei polli! No ragazzi lo sapevo Ma l'avevo addomesticato? Oh mio Dio si sono salvati due polli incastrati qua dietro Non ci posso credere Aspettate Oh mio Dio Se li hai mangiati tutti Allora c'è qualcosa che dobbiamo fare qua Allora io non ho ancora capito Se i gatti pardi effettivamente mi servono nel villaggio Se veramente tu hai... Ti ho preso per togliere i creeper Non per uccidermi tutti gli animali da fettoria Non so perché si sono salvati due polli Non gli devo farlo Assolutamente morire Allora prendiamoci il nostro guinzaglio Dobbiamo assolutamente dargli una lezione a questo... A questo gatto pardo Io ti ho lasciato un giorno di libertà E da un dito ti sei preso un braccio Ve l'ha mai detto a vostra madre che da un dito Poi vi prendete un braccio? Ecco allora facciamo una bella cosa Non mi fido più di te Mi hai distrutto Proprio psicologicamente Quindi io adesso ti porto Mi ero giù in cantina e ci vivrai tutta la vita Maledetto satana Perché satana dov'è che abita negli inferi E se satana abita negli inferi Che cacchio è successo? Jaden Che cacchio è entrato? Oh mio... No raga Allora vi giuro Vi giuro Che non è Oddio ma dove è il mio... Aspetta Jaden Devo staccare il guinzalio da sta bestia Via! Come se come... Te ne stai qua sotto Per sempre Oh mio dio Raga abbiamo Abbiamo Jaden Dentro il server Cosa sta succedendo? Non l'ho invitato assolutamente io Ma il problema è che Non ha un villaggio Jaden Quindi Jaden è lo spawn? No 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 E io come esco adesso? Come ce l'arrivo io là? Allora ragiona Sasha Ragiona Allora devi passare di qua Ma proprio di notte dovevi arrivare A creare danni? In realtà Jaden non lo sa che Cioè Jaden non parla Dice solo power E... Aspettami allo spawn Ma che cosa sta succedendo? Allora già Jaden in vita sua Va a farsi i viaggi Va a lavorare lontano da casa Si fa gli affaracci suoi Jaden ha compito i migliori amici per sempre Sì siamo Lo sappiamo che siamo amici Jaden Lo siamo sempre stati amici Oh mio dio raga Io spero che non combini dei guai Perché è veramente un guassafest Jaden Non ci posso credere Ma pure questo mi dovevo beccare Sì sì Oh mio dio un attimo Oh mio dio Secondo Ok perfetto Oddio quanti ce n'è? Ci sono anche i pillager Cioè è diventata veramente una missione di salvataggio Oh mio dio Ok Guarda li ammazzo tutti Così poi gli lasciamo la via libera Al piccolo panda Mi sento un po' come Naruto Dopo che raccogli tipo 15 panda Ti evoca Jaden Evocazione di Jaden Passiamo dalla parte sopra Perché ricordo Che c'è la van posto Dei pillagers Che io nel secondo Nel primo episodio Ho visto E ho scambiato per una casa Di un altro youtuber Che stava qua dentro Che burlone che sono Vorrei non morire Che ho 24 Cosi di esperienze Non sono mai riuscito ad arrivare a 30 Perché c'era sempre un creeper ballerino Che mi faceva esplodere Come un kamikaze Dovrei avere qua sulla destra Esatto La van posto dei pillagers Che perché c'ha Dalla cobblest Tutta così non lo so Oh Ma Cosa ci fai su un lama Ciao Vabbè Giustamente Un panda sul lama Tutti i giorni si vede no Allora Come glielo spiego Perché lui Lui non mi sente Allora Cosa gli faccio le domande Che se scrivo Cosa ci fai qua Mi risponde Powa Perché lo so Perché è normale che mi scrive Powa No Powa 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 Giustamente Cerchiamo di comandare Un attimo la situazione Allora Allora Un Powa Vuol dire sì Due Powa No No Vuoi Farti un Villaggio Tutto Tuo Ok Perfetto Si vuole fare un villaggio Vuole stare qua dentro Siamo a noi Perfetto Ok Caro JD Prima Di scegliere Un posto Ti faccio vedere I nostri Villaggi No Powa Powa Perché no Perché no Dai È bello Vieni Sembra di parlare con un cane Cugelo Vieni qua Perché non usi il sedere a lama Ah ok Allora Seguimi Seguimi Allora Ma va Sto già sudando Perché La La notte dura 6200 Anni Luce E Come sempre Il giorno Ne dura Niente Allora Vabbè A parte che Era Gentilissimo Vabbè Avrà capito che deve venire Se non viene pazienza Si perde E schiopero in un angolo Ti porto da Surry Per Primo Non ho voglia Di difendere Jayden Come se fosse Il mio cagnolino Domestico Dovrebbe lui Difendere me E lui Il DJ Piazza un po' Di musica Fai volare Fai saltare I zombie E paura Paua cosa Cosa ne so Vuol dire che hai paura Vuol dire che sei felice Cosa ne so Ok Non pensavo che fosse così difficile Arrivare da Surry Dio ma finalmente C'è l'alba Si Cerchiamo di racchiudere Tutto questo tour Anche se lui non mi sente In una unica giornata Un po' come quando Siamo andati in Cina Questa è la torre di Surry È venuto sudando una volta Nel mio episodio E quindi Si attaccherà un po' E migliorerà il suo villaggio Come ben sapete Andiamo Verso Il mio Villaggio Io non so se Jaden Segue le serie Perché io non so cosa fa Proprio durante la vita Cioè non so cosa vuole fare In realtà Dovremmo costruirgli una casa A tema panda Cioè o lo faccio vivere In mezzo ai miei panda O poi li costruiamo Una casa Di panda Allora Per entrare nel mio Villaggio In realtà non ho più fatto una porta Cavolo vabbè Allora costruiremo adesso Una porta Come posso decifrare Se è felice Se è triste Non lo posso sapere Sì ah beh Ok allora penso sia felice Perché ha visto i suoi simili Guarda c'è papà Non mangiano i fiori panda Lo sai benissimo Paua paua no Sì questi Non sono in cattività Tu lo vedi Non sono in cattività Vivono felici Rotolano Se fossero In cattività Non rotolerebbero no Che fortuna Potevo chiamare Il primo panda Lo potevo chiamare Jaden Invece l'ho chiamato Kung Fu Abbiamo il vero Jaden dentro Qua tutti Ti amano In realtà non saprei che cosa fargli vedere Nel mio villaggio Allora c'è soltanto un letto Ed è mio Quindi vedi di lasciarmelo Eh cosa stai Jaden Non è cosi Ti ammazzo Basta Molo più Molo più Molo più gli allazzo Facciamo finta di niente Prendi No prendili le carote Oh mio dio ragazzi Io sapevo che sarebbe stata difficile la vita Soprattutto nel mio villaggio E mi sa che nel mio villaggio Ci staremo ancora poco Ma proprio poco Ma proprio Tre secondi Ma devo ripiantare tutte le cose che Tutte le cose che ha fatto Madonna ragazzi Mi sta venendo un colpo al cuore Un attimo Come sei incastrato lì sotto Cosa Come Come va Ben Ben ti sta che ti sei incastrato lì sotto Ma Cos Come Scusami ma come si entra qua sotto Oddio Come si fa ad entrare lì sotto Non lo so È mia nuova sta cosa qua Io non so Non so come si c'entra qua dentro Oh Oddio Oddio Come ho fatto Oddio che magia Eh Oh mio dio Oddio 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 Cos'è sta stregoneria Sto sognando Non mi dare i semi di barbabietola Jaden mi vado a scoprire una cosa nuova Ho un bug Ecco tra poco ci bannano Ah no è vero il mio server Vabbè Comunque Mi autobanno dal server Faccio finta di non aver visto niente Allora vabbè A casa nostra è finita Seguimi 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 Mi raccomando Cosa mi sta rubando So che mi sta rubando qualcosa Beh però aspetta Mi ha fatto venire un'idea Se utilizziamo La lana Possiamo fare Esatto Possiamo fare casa sua A tema panda Andiamo Da Eme Ehi Andiamo a distruggere casa degli altri E scrivere Lascerò un cardello dicendo che sei stato tu Ok io l'ultima volta che sono venuto da Eme Tra l'altro Avevo visto lì La casa Inizialmente C'era proprio La parte iniziale La prima Poi da lontano Ho iniziato a vedere Piani su piani Iniziato a fare grattacieli In cima Agli alberi Quindi Non ho più seguito Di sotto ci sono le fornaci Ah mi sono Che bello Il tavolo degli incantesmi In cima agli alberi Interessante Poi Sto sono bando jade In chi se ne frega Io mi guardo il villaggio Anch'io Bellino Bellino come posto Cariuccio Ma Eme Se guardi questo video Sai che è colpevole Benissimo Non ci mancherebbe Soltanto che Poi tutti se la iniziano a prendere con me Sempre colpa mia Ah qua c'è Questo l'avevo visto Forse da lontano Qua c'è il pappagallo Oddio Sto continuando Tra poco crepo Vieni andiamo Da Giulio Aspetta Aspetta Si sta facendo buio Andiamo su Torniamo su a dormire E poi Giulio lo vediamo magari domani Ok Vorrebbe essere qui Perfetto Ok Power power Che cosa vuol dire No 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 cosa Dormiamo Come here Che ti stringo forte Il bellissimo Jaden Che sei morbidoso Tra l'altro a me il cibo sta pure scarseggiandola Di qua Hanno creato Oddio che bello Figata sto passaggio Vieni Ci sta Bambù In quantità Perché che è finito No Cosa vuol dire no Vieni Adesso ha preso di testa sua Che deve fare lui le cose Cosa c'è Ci seguo Ok Vabbè Seguiamola Di qua stiamo andando da Andre Ma non Penso che non gli stia importando assolutamente il tubo Curioso Curioso Devo esplorare l'esplorazione con Jaden Ok Craft in the Bolletto Bambù Fiore Vuole fare qua casa sua Vuoi fare casa qua Power power Ok Ok Va bene Va bene Ci sta in realtà Sei tutto in mezzo al bambù Aia cosa vuoi Un cartello Ok Tu casa Io Io Devo fare casa tua Io casa tua Ah Beh Ah devo pure costruirti casa Beh però Beh 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 Bella la vita no Va bene che C'è Anni e anni Via d'estinzione Panda che devono essere aiutati Allattati E farli partorire E farli mangiare Tu casa o tu boom Cosa Io ti strappo le orecchie Ti mando in pasto ai leoni Facciamo la casa a Jaden Me lo dite nei commenti Gliela facciamo Come gliela facciamo A forma di panda A forma di cacca E vabbè Facciamo va bene Solo Se Prometti Di comportarti Bene Ah Quando gli devo fare la caccia Mettagli il guaditino Vedete Tu panino Tu boom Ma cosa Tu panino Tu boom Che cosa vuol dire Non ne ho Tieni L'unica cosa che posso fare È questo Ti regalo un pulcino Oddio È veramente nato Ci rivediamo Quando Ti ho Fatto Casa Bene Ma cos'è Ma Ma cosa che mi lancia ogni volta Che esplode Non lo capisco Mi scorre già in faccia Vabbè Bene Animale animale Direi che Jaden È apparso Nella serie Con richiesta di casa Richiesta di panino Oppure ci fa esplodere Vuole la casa In mezzo al bambù E quale posto migliore Poteva essere Per un panda Fare casa Un po' in mezzo Lo accontenteremo Fatemi sapere Voi nei commenti Lasciatemi raccomando Un mi piace per Jaden È importantissimo Un mi piace per continuare La serie di Minecraft In generale Spero davvero Che questa serie Continua a piacervi A grande e lunga A grande e lunga Cosa vuol dire Vabbè Comunque Dovete iscrivetevi al centro Guardate altri video Bellissimi dei lati E ci si becca Ad un prossimo video Stay angry Per gli animals Muuu Uuuu Grazie a tutti Grazie a tutti